contro la furia la mia mente è una luce vivida quando è confortata dalla speranza e resta forte contro la furia a volte disperata della vita perché commento non è la tua mente che è una luce vivida ma la tua coscienza la mente esegue solo gli ordini della coscienza grazie